benvenuti in questo mancavano quattro pacchetti di champions league e due 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 in due shorts di pacchetti spacchettiamo e le altre due in appunto appunto per fare una formazione scegliendo tre giocatori per pacchetto no cinque giocatori per pacchetto dovremmo fare boh via via con questo via con i shorts via 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 dico tutti via perché devo dire lui che non voglio dire i nomi messi records e road ciao ragazzi